Di chi sono le responsabilità e perché è accaduto quello che è successo? Le responsabilità sono chiaramente della Regione ma in particolare del Presidente di questa Regione in qualità tra l'altro di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico. Abbiamo guardato le carte dal 2015 al 2018, era previsto un intervento che non è mai stato completato, proprio quello in passo Pioppe dove il reno è esondato. Lui aveva delle responsabilità rispetto all'attuazione dell'intervento da 220 mila euro che evidentemente è stato iniziato e mai terminato. Tra l'altro doveva già essere finito, in realtà non è così, pare che sia stato un intervento fantasma. La Regione sapeva perché proprio qualche settimana fa ha finanziato per 120 mila euro la prima parte di questo intervento. Stupisce che Bonaccini faccia finta di non sapere niente e chieda una fantomatica relazione quando lui era il primo che doveva vigilare sull'attuazione dell'intervento.